che avesse potuto sfornare. Quell'aggeggino tutto pelle e ossa di mia nonna mi sembrava impossibile che avesse potuto sfornare mio padre, così grande e grosso, ed era sorprendente l'impronta che aveva lasciato anche su noi nipoti. Priva di esperienza del mondo, tutte le conoscenze intellettuali di mia nonna si riducevano al Vangelo. In quell'unico libro c'era per lei tutta la storia e tutta la morale dei popoli e il perché della vita. Perché? Commento. Perché dopo vite e vite tua nonna era giunta a quella sintesi, c'era giunta da femmina, ma le esperienze le aveva fatte soprattutto da maschio, come sacerdote. grazie. 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 Grazie a tutti.